Ma questo Milan può vincere la Champions League? Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Non mi sono ancora rincoglionito, quindi state calmi, fate un sospiro, lasciate un like subito, iscrivetevi se non siete iscritti e soprattutto commentate, rispondete a questa mia domanda, o meglio a questa mia provocazione, come si suol dire, no? In realtà ho preso un po' spunto da una riflessione fatta dall'amico Zoccolo Duro, che durante l'ultima live fatta insieme a Steve, lui ed Enrico Silvestrin, ha detto ragazzi ci sono più possibilità che il Milan vinca la Champions League piuttosto che il campionato. Quando ha detto sta roba mi è venuto distinto fare, dai, non dire cagato. In realtà ragazzi no, in realtà no, è una provocazione anche la sua che ha in effetti una base di verità abbastanza consistente. È chiaro ragazzi che la premessa è che né io né lo zoccolo, figuriamoci, pensiamo che questo Milan possa vincere la Champions League. Questa frase più che altro fa riflettere, questa provocazione fa riflettere, vale a dire che se effettivamente il Milan, come vedremo, ha più possibilità di vincere la Champions League rispetto al campionato, pensate come cazzo siamo messi male in campionato. Il succo del tutto direi che sia questo. Vedremo anche un po' di quote che avvaloreranno questa tesi barra provocazione. Io direi di partire dalla classifica di Serie A, eccola qua. Come vedete c'è il Napoli che guida con 29 punti, poi Atalanta, Inter, Fiorentina, Lazio che seguono a 28 punti, poi c'è la Juve 25, poi distaccato notevolmente c'è il Milan a 19 punti, con la partita da recuperare col Bologna, che peraltro ci sta giusto col fiato sul collo, a 18 punti. Bologna che era partito decisamente male, poi si è ripreso. La classifica della Champions League invece è la seguente. Liverpool 15, poi Inter, Barcellona, Dortmund, Atalanta, Leverkusen, Arsenal, Monaco. Diciamo che tra queste non c'è nessuna squadra che dice un mio Dio come fa ad essere lì, sono tutte squadre secondo me meritevoli di quella posizione in classifica. Nel secondo blocco, vale a dire, tra le altre 16 squadre che poi si affronteranno per accedere, le prime nove passano direttamente agli ottavi, tra la nona e la ventiquattresima poi si sfideranno tra di loro con i playoff e da qui usciranno altre nuove squadre che andranno appunto agli ottavi. Tra queste, come vedete, c'è il Bayern Monaco che è sicuramente una delle grandi assenti del primo blocco, l'Atletico Madrid che ha tutte le carte in regola in realtà per stare tra le prime nove, il City che ve lo dico a fare e poi Real Madrid e PSG. PSG che addirittura è venticinquesimo, quindi ad oggi sarebbe completamente fuori dalla Champions League. Mancano in realtà solo tre partite ragazzi a questo minicampionato e secondo me qualcosina cambierà, nel senso che è chiaro che mi aspetto che un Real Madrid in qualche modo, ora non so esattamente le partite che dovrà giocare, però mi aspetto che riuscirà ad accedere. Ora non dico per forza e sicuramente tra le prime otto, ma perlomeno mi aspetto che migliorerà la sua posizione in classifica, quindi sempre nei play-off, magari tra le prime posizioni dei play-off o tra le ultime di chi invece andrà direttamente agli ottavi di Champions. Il PSG secondo me in qualche modo riuscirà ad intrufolarsi almeno nella zona play-off e poi penso che non ci saranno altre grandi sorprese. Ecco, una sorpresa invece potrebbe essere il Milan che, come abbiamo visto nel vlog di ieri o dall'altro ieri, potrebbe addirittura accedere direttamente alle prime otto e quindi direttamente agli ottavi, considerando che sulla carta ha tre partite decisamente semplici, vale a dire contro il Girona, contro la Stella Rossa e contro la Dinamo Zagabria. Quindi sono, vi ripeto, tre partite che potrebbero effettivamente portare il Milan tra le prime otto. In quel video vi avevo detto che servivano poi quattro vittorie. La prima, soffrendo, l'abbiamo ottenuta. In realtà, per stare tra le prime otto, sapete che vi ho detto che poi cambiavano le percentuali in base ai risultati della quinta giornata di Champions League, da quel che ho capito, da quel che ho visto, addirittura potrebbe bastare, anzi basterà molto probabilmente, basterebbero due vittorie e un pareggio o addirittura due vittorie e una sconfitta. E' chiaro che tu, Milan, mi insegna la storia che devi pensare a vincerle tutte. Quindi, vi ripeto, ci sono forti probabilità che il Milan andrà lassù. Discorso diverso sarebbe stato, secondo me, con la vecchia edizione della Champions League. È ovvio che con i secconi ma non si può ragionare, però per me il Milan avrebbe faticato di più. Credo che l'effetto mini campionato possa effettivamente aver agevolato il Milan, così come anche il sorteggio, perché poi da lì passa tutto, ma questo discorso valeva anche per i gironi. Tante volte ti capitava il girone di ferro, tante volte invece ti capitavano squadre più abbordabili. Il pizzico di fortuna poi serve sempre, soprattutto in Champions League, quando ti capitano squadre un po' a caso. E' normale, ragazzi, che poi una volta arrivati agli ottavi il livello si alza tremendamente. Il Milan ha dimostrato che in alcune partite secche può effettivamente dire la propria. e quindi non mi stupire neanche se con un sorteggio, non dico abbordabile, ma dolce, agrodolce, perché l'agro c'è sempre quando si è agli ottavi, però agrodolce il Milan possa dire... Ma adesso stiamo anche sin troppo fantasticando. In campionato, ragazzi, la situazione, come dicevo, è decisamente diversa, perché tu Milan devi sperare, praticamente in un corrollo verticale di Napoli, Atalanta, Inter, Fiorentina, Lazio, Juventus, e tu Milan devi vincerle quasi tutte. Visto l'andazzo di quest'anno, purtroppo, ripeto, purtroppo credo poco a questa eventualità. Guardiamo un po' di quote, che secondo me sono abbastanza indicative. Ad oggi, le quote ovviamente si aggiornano di volta in volta in base ai risultati, l'Inter è quotata a 2,25 per la vittoria dello Scudetto, intendo. Segui il Napoli con 3,50, Ocio alla quota dell'Atalanta che è scesa ed è arrivata a 5, penso che sia una delle quote più basse della storia della squadra bergamasca. Juventus 9, Lazio e Fiorentina 25, Milan 33. Quindi che il Milan possa vincere lo Scudetto è quotato a 33. Per quanto riguarda invece la vittoria della Champions League, questa nuova struttura della Champions League effettivamente sta mandando un po' in confusione, secondo me anche i bookmakers, perché non c'è ad oggi una squadra che spicca sulle altre. La quota più bassa ce l'ha il Liverpool, con quota 6, quindi è comunque una quota molto molto alta. Segui il Barcellona e il City con 6,5, quindi come avete visto anche se il City adesso è decisamente dietro, secondo i bookmakers può tranquillamente salire e poi essere più cazzuto nella parte della stagione che conta, quindi dagli ottavi in poi. Arsenal, Real Madrid 7,5, stesso discorso ovviamente vale per la Real Madrid che ad oggi è quasi fuori. Bayern 8, Inter 10, quindi l'Inter è la prima squadra italiana quotata. O c'è l'Atalanta ragazzi, quotata 20, che se ci pensate 20 è tanto sicuramente, ma stiamo parlando di Champions League, quindi non è neanche tantissimo per l'Atalanta che lo scorso anno ha vinto l'Europa League, quindi sta anche prendendo un po' di rispetto diciamo così dalla parte a livello europeo. Decisamente tanta credibilità più che rispetto e rispetto poi di conseguenze. L'Ever è chiuso ai 25, Juve 33, ma Atletico Madrid 40 e poi troviamo il Milan a quota 50. Dani, ma avevi detto che è più semplice per il Milan vincere la Champions League rispetto al campionato? In Champions League è quotato 50, nel campionato 33. Lo so che è 33 inferiore a 50, però cercate di capire il discorso mio. Cioè, Milan che alza l'ottava, effettivamente ci avete mai pensato negli ultimi periodi, direi di no. Eppure la quota di vedere il Milan alzare la Champions non è così tanto più alta di rivedere il Milan alzare il ventesimo scudetto. Ok, è il 33 inferiore a 50, ma la differenza è davvero minima e questo fa capire, vi ripeto, ribadisco, quanto il Milan si è messo male in Champions League. Detto questo, purtroppo, penso che il Milan non vincerà né una roba né l'altra, però diciamo che se avessi un euro da buttare, lo butterei forse più sulla Champions League che sul campionato. Detto questo, ditemi cosa ne pensate, ovviamente poi nei prossimi video approfondiremo la situazione. Milan, ho letto tanti commenti di gente, non dico entusiasta, però diciamo non preoccupata dell'assetto difensivo del Milan. Uno di voi mi ha scritto non più di 20 minuti fa, classico commento che mi ha fatto tremare il sopracciglio per il nervoso, però ne parleremo insieme in un prossimo video. Per adesso è tutto, sempre Forza Milan, e alla prossima. Ciao.